Ciao, sono Massimo Oddo, un saluto particolare a tutti i fan di Football Manager, finalmente è uscito la nuova versione del 2012, saremo tutti contenti di giocare, magari ci vedremo in linea su internet. Mi dispiace molto non essere presente a questa bellissima presentazione, ma vedremo di fare il possibile per il prossimo anno. Massimo, ne approfitto per farti questa domanda, se non sbaglio tuo padre è un allenatore, non è che ti stai allenando con Football Manager per sederti un giorno su una panchina di una squadra di Serie A? Confessalo. No, gioco a Football Manager perché mi piace, sono un appassionato ormai da decenni, perché mi piace, ma credo che nel mio futuro, non credo che farò l'allenatore, non è un mio sogno, poi insomma nel calcio non si sa mai, si può sempre cambiare idea, ma al momento non è quello che voglio fare. E sai magari di tuoi compagni o ex compagni che sono fan di Football Manager? Eh ne ho, ne conosco tanti, ne ho conosciuti tanti e ogni anno ne scopro di nuovi. Quest'anno gioco a Lecce e ho trovato già un paio di ragazzi che sono appassionati di questo gioco. E quali sono gli aspetti manageriali di Football Manager che te lo fanno maggiormente apprezzare? Il bilancio, a me piace il bilancio, piace il mercato, ecco prima parlavamo di fare l'allenatore a me, più che l'allenatore mi piacerebbe seguire l'aspetto finanziario delle società manageriale proprio in sé per sé, quindi questo è l'aspetto che mi piace di più. E una domanda veramente molto curiosa, con che squadra giochi? Gioco con la squadra della mia città che è Pescara, perché poi mi piace partire dal basso e portarla in alto. D'accordo, allora grazie mille Massimo. Grazie a tutti voi, un saluto, ciao. Grazie a tutti.